Tutti, sentila! Se vuoi lo sport, il posto è questo Canta insieme a noi, reggio a canestro Tirala da tre, sai che cosa c'è? Il portale più fresh, zero demo day Se vuoi lo sport, il posto è questo Canta insieme a noi, reggio a canestro Tirala da tre, sai che cosa c'è? Il portale più fresh, zero demo day Dal web alla curva, la folla che succa Gente in doppia fila, ma non scatta la multa La palla nel cesto, un solo gesto Un terzo tempo, troppo onesto In tutte le squadre del tuo circondario Per ogni avversario, sarà un calvaio Calabresi NBA, se ci sei Reggio a canestro e calafro i DJ Se vuoi lo sport, il posto è questo Canta insieme a noi, reggio a canestro Tirala da tre, sai che cosa c'è? Buonasera, buonasera con l'appuntamento con la palla canestro Riparte Tour in Basket per una nuova entusiasmante settimana Con la palla spicchi Buonasera innanzitutto da Giovanni Mafrice e da Carlo Vedere qui accanto a me Buonasera a tutti Questa sera siamo orfani di Gioacchino Granata che salutiamo Lo ritroveremo sicuramente settimana prossima Più in forma Sicuramente Turno di riposo per la viola Reggio Calabria Turno di riposo salutare Ricaricare le batterie dopo dieci vittorie su tredici partite disputate È una cosa sicuramente importante Abbiamo ascoltato coach Ponticello Molto molto sereno La squadra sta lavorando Sta lavorando molto bene In vista del prossimo impegno casalingo Alle ore diciotto contro Chieti Dove gioca un ex neoarancio Un ex preistorico della viola Che fu allenata da coach Gaetano Jebbi Ovvero Stefano Raiola Da Ragusa venne quell'anno Probabilmente sì Un campionatore con Ragusa Fu una scommessa probabilmente Una scommessa vinta comunque Sicuramente Grande lavoratore Me lo ricordo al centro viola Che lavorava sui fondamentali giorno e notte Clay Roccioso Adesso è diventato sicuramente uno dei cardini Della DNA La viola dunque scende in campo Domenica alle ore 18 Ricco il palinsesso di tutte le altre formazioni Nel basket calabrese In DNC è pronto un nuovo derby A Catanzaro alle ore 18 Al palapulerà La nuova Jolly rinfrancata da un momento di forma letteralmente strepitoso Affronta la Planet Catanzaro Probabilmente nel suo periodo di minor forma All'interno di un campionato letteralmente super Due sconfitte Una preventivabile Contro Cus Messina L'altra Probabilmente un po' meno In casa dell'amatori Messina Dopodiché gioca in casa Sabato La Re del Vissereggio Calabria Giocherà contro la Cireale Ovvero la seconda forza del torneo Segnali di ripresa sicuramente Per il quintetto allenato da coach d'Arrigo Vittoria contro la Gioiese Proprio la Gioiese Ingaggia Riccardo Rizieri in settimana Il giorno dopo Lo fa giocare nel derby contro la Viss E se no che lo tesserà da fare Infatti Sconfitta di un soffio Contro la Viss E adesso domenica Il quintetto di coach Pasquale Motto Andrà a giocare Sul campo del Paternò All'interno di una sfida Salvezza Da vincere sicuramente Poi parliamo dell'Olimpia L'Olimpia che finalmente Si riscatta Dopo un periodo lunghissimo Fatto di sconfitte Vince a Viterbo Una gara fondamentale In chiave salvezza Adesso Si stanno un po' più tranquilli Però Sempre E' sempre alta la guardia Aspettando il play out Carlo E' un'altra vittoria Cioè Una delle poche Vittorie dell'Olimpia Una vittoria Nel campo di Viterbo Sul campo di Viterbo Che faceva Non preventivabile Ovviamente visto Il periodo un po' così In chiaroscuro Delle regine Però ovviamente E' stato un successo Che ha Quanto meno rincuorato La prova Un attimino Di riscossa C'è stata Contro Battipaia Seppur Si è sopravenuta Una sconfitta C'erano Dei margini Di miglioramento Erano già Visibili Già in quella sconfitta Lì Il coach Era Molto soddisfatto Di questa Di questa prestazione Il presidente Melissari Comunque si aspettava Una riscossa Contro meno Contro Viterbo E contro Viterbo Vittoria è stata E poi Ricordiamo Che è sempre Un campionato Di serie A2 Due gironi In tutta Italia Di serie A2 E una serie A1 Del basket femminile A sole 10 squadre I rumors Dicono che Probabilmente Anche la serie A Dei maschietti La lega A Del basket italiano Probabilmente Potrebbe arrivare A questi numeri In futuro Ci auguriamo Francamente Di no E' un momento Sicuramente critico All'interno Del basket italiano Cambiano i vertici Anche nel coni nazionale Tanti e tanti problemi Si punta chiaramente A ripartire A Reggio Calabria Nuove novità Nuove novità Non si può dire Diciamo così Tolti i sigilli Al Palacalafiore Finalmente Dopo quasi un anno Dal terribile incidente Occorso nei preparativi Del concerto Di Laura Pausini Adesso si aspetta Che i commissari Di questa città Pongano Le giuste modifiche Ad un impianto Completamente Abbandonato A se stesso Si parla realmente Di tante pozzanghere Di una condizione Veramente triste Come è triste La situazione Di tutti gli altri Impianti Di Reggio Calabria La Viola Continua a giocare Al Palabottegale L'auspicio Rimarcato anche Da coach Francesco Ponticello In futuro Puntiamo a arrivare Al Palacalafiore E magari a riempirlo Adesso partiamo Dal breve periodo Puntiamo A riempire Il Palabottegale No Puntiamo a riempire Il Palabottegale No guarda È una bella Dichiarazione Comunque Quella di Ponticello Sempre Si mantiene Su Volo a basso Quindi Sebbene Il suo arrivo E anche quello Di Alessandro Piazza Abbia Quanto meno Svoltato Questa squadra Come Abbia rivoltato Questa squadra Come un guanto Cioè 10 vittorie Se non sbaglio Nelle ultime 13 partite È un record Quasi da Seconda Terza posizione In classifica Ma da prima Diciamo da prima Anche da prima Dai Poi ricordiamo Ha sempre Quell'aspetto Di Di umiltà Vabbò Cosa che impone Ovviamente Di low profile Diciamo così Voliamo basso Per carità Adesso il calendario E la viola Tutto di guadagnato Poi Se arriva il risultato Tutto di guadagnato Sicuramente Intanto alla vigilia L'ho detto Mette le mani avanti Certo A proposito Scusami Mi permetto solo Di salutare Due ascoltatori Che purtroppo Non possono essere qui oggi Ti volevo fare una sorpresa Solo che Purtroppo mi hanno telefonato Non possono venire Ovvero Paolo Canale Non può essere oggi Perché è appena uscito dal lavoro E Luigi Martino Che saluto Come no Li salutiamo Allora Avremo come ospite Però Un ex viola Assolutamente Amicone Amico di Paolo Sicuramente Federico Lestini Lo chiameremo Tra qualche istante Ci racconterà un attimino Tutte le novità Del basket Del nord Diciamo così Lui che conosce benissimo Tutti i giocatori Della viola Ma viene sempre qua Ogni anno Comunque ha Un Ha lasciato tantissimi amici E amiche E ben Si trova Si trova bene qui Scene ogni volta Durante l'estate Stavamo dicendo Il calendario della viola Domenica contro Chieti Poi trasferta a Torino Il nostro Nino Romeo È pronto per partire Assolutamente Verso il palazzetto piemontese Dopodiché Un altro turno di riposo Frutto di Un campionato Programmato Male Finito peggio In estate Forfè per Rieti Subito dopo In campionato in corso Chiaramente Forfè per le Eagles Bologna Tanto dispiacere Per il KO Delle Eagles Bologna Tanto piacere Per aver ritrovato Un piccolo Grande giocatore Qui a Reggio Calabria Parliamo di Alessandro Piazza Un protagonista assoluto Della viola Che sta facendo Veramente innamorare Come una volta Tutti i tifosi Sportivi Del basket Dispiaciutissimo Ovviamente Per la piazza Storica Ovviamente Quella delle Eagles Bologna Ovviamente Oltre alla squadra Allestita sempre Ogni anno In maniera Una corazzata Sempre la squadra Da battere Ovviamente I risultati Successi A fasi alterne Però quello Che ovviamente Ha distinto Le Eagles Di Bologna E la sua tifoseria Sempre Sempre calorosa In tutte le piazze D'Italia Come Come succedeva Tempi belli Total chaos Seguivano la viola Qualsiasi trasferta Andavano al seguito Anche un piccolo numero Stessa cosa Dicasi Delle Eagles Bologna Andavano in qualsiasi Palazzetto Una tifoseria Sempre corretta E colorita Il gemellaggio Ovviamente Con i pazzi Di total chaos A suo tempo Non poteva Nascere Che in una forma Davvero Entusiasta Si sono trovati Due gruppi Di completi Esaltati Si vedevano Qui per l'occasione Poi tutti a Berra Fine partita Poi tutti a Bologna Poi tutti a Bologna Ma come Come tradizione Hanno lasciato anche loro Degli ottimi ricordi E il basket Ovviamente Ha perso Oltre la piazza Quindi oltre la società E la formazione Ha perso anche Una tifoseria Davvero eccezionale Ma secondo me Non l'ha perso assolutamente Provanè Le finale di Coppa Italia Dove Bologna Non giocava La fortuna Non giocava Però c'era La forse Leone In curva Pronta a manifestare Contro un basket moderno Sempre più malato Stavamo dicendo Lega A femminile A dieci squadre Tristissima Lega Del basket Italiano Maschile Che mira A queste dieci squadre Si punta A ridurre Il numero Perché purtroppo Non c'è potere economico Non ci sono più sponsor Guarda in questo caso Ovviamente È assolutamente Deleterio Il detto Meglio pochi ma buoni Perché ovviamente Stanno scomparendo squadre Come se piovesse Ad inizio Campionato A fine campionato A campionato in corso Scompaiono squadre Non ti dico Falsando i campionati Ma quasi È una situazione Davvero Davvero imbarazzante Per la federazione italiana Palla canestro Abbiamo letto pure Le parole Le parole forti Del presidente Petrucci Sono Sono delle parole Che veramente Lasciano il segno Però una volta Che i buoi sono scappati Ti accorgi Ora che Praticamente Il guaio È fatto Arriva con un Forse Con un 4-5 anni Di ritardo Questa Questa bacchettata E soprattutto Ascoltare certe parole Da Una persona Che fino all'altro ieri Era il numero uno Dello sport italiano Il presidente del CONI Passa dalla federazione nazionale Al CONI Poi dal CONI Ritorna alla federazione Nazionale italiana E questo è un pochettino Il passaggio Te l'ho detto Il mio rammarico È che ci sia ravveduti Di questa crisi Ovviamente Dopo Penso 5 anni Perché già con la legge Bosman Molti Hanno storto il naso Dicendo che Sì Il livello Forse un attimino Forse si può alzare Ma perderemo comunque L'aspetto E l'importanza De Vivai Cosa che ovviamente è stato Perché si punta A valorizzare Il giovane Che viene da fuori Quindi E dando meno importanza Al Al prodotto Chiamiamolo Nostrano Molti Pochi ragazzi italiani Vedo Vedo in serie A Vedo sempre squadre Di questo poi Come dire Ne prende le conseguenze La nazionale italiana Con quel risultato eccezionale Dell'europeo Poi si è combinata Ad avere sempre Un declino Sempre Sempre verso il fondo Vedo pochissimi ragazzi italiani Informazioni A meno che Proprio non siano dei geni Della pallacanestro Militari In squadre di serie A Ovviamente Ruotano sempre In quei purgatori Di campionati Dilettantistici Se si pensa Che Torino Ha offerto un contratto Triennale A 5 giovani promesse Under Del basket italiano Dove c'è anche Un reggino Kenneth Villanisi Ma assolutamente Questo è quanto Ma io mi auguro Che non si parta Sempre dalla Dalla serie Dalla serie B Perché trattasi Soprattutto di serie B Io mi Mi ricordo sempre Poi tra l'altro Stiamo parlando di Kenny Villanisi Che ne ha Se non sbaglio 21 o 22 Del 92 Mi ricordo comunque Sempre le parole Di Tanjevic Al suo tempo Allenatore Della CT Della nazionale italiana Un ragazzo Già a Lo diceva lui Che era Medaglia d'argento Agli europei Un ragazzo Già a 17 anni Per me È da considerarsi Vecchio Cioè Non più giovane A me queste parole Mi hanno colpito Perché ovviamente La Turchia Che abbiamo incontrato Sempre in quel periodo Quando Tanjevic Era CT Della nazionale Schierava in nazionale 4 sedicenni La Turchia E poi da lì Ovviamente C'è stato un attimino Anche un piccolo boom Del basket Della nazionale turca Però Ovviamente Bisogna investire Certo i risultati Non arriveranno subito Come è logico che sia Perché sono ragazzi Devono fare esperienza Ma se questi ragazzi Non giocano mai Se nessuno all'ardire Di schierarli O quantomeno Di programmare Attorno a loro Un qualche tipo Di progettualità Chiamiamola in questa maniera Non si avranno mai Quei Non si raccoglieranno mai Quei frutti Forse le società Sono un po' troppo Abbaiate Dal risultato Immediato Stesso dicasi Della viola La viola ha avuto Il suo boom Del Del vivaio Nello scudetto Cadetti Nello scudetto Cadetti Ha avuto Il massimo picco Con cattani Ielasi Grasso Peppe Zoccali E tutto Tutto quel gruppo Lì Però quel gruppo Non è nato Come lo stesso Gebbia ha detto Quel risultato Non è nato In un'estate Ogni un mese Gebbia ci ha lavorato Circa 5-6 anni Per arrivare A un risultato Eccellente Quando poi il basket Tra l'altro Era a livelli Eccezionali Quindi non mi ricordo Adesso contro Treviso Contro chi abbiano giocato Se non valerato Bulleri Forse dirò Forse dirò Ivan Gatto Sicuramente Ivan Gatto Sicuramente La stessa Cioè Le società Devono tornare A programmare E avere Soprattutto pazienza Mi auguro Che ce l'abbiano Le nuove società Emergenti E adesso A proposito Di pazienza Che non c'è A fine febbraio Finisce il mercato In tutti i campionati Piccoli colpi Di mercato Quella Vi diciamo Soltanto Che Giovanni Santucci Lascia la bottegata De basket Ufficialmente Parlando di un under Infatti Con Touring Basket Siamo pronti Per il teletrasporto Lo stiamo riportando A Modena Attenzione Attenzione Carlo dimmi quando Lo stiamo riportando A Modena Al centro viola Come ai vecchi tempi Eccolo Ce l'abbiamo? Ciao Federico Lestini Sei in linea Buonasera Sono in linea Buonasera a te Come stai innanzitutto Tutto a posto Ci stai ascoltando Immagino Sì 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 Stavo ascoltando Prima in diretta Lo streaming Senti I potenti mezzi Allora Per prima cosa Che fine hai fatto E quando ti rivediamo In campo No Non credo Non credo Come non credo Sto facendo Sono al centro Di fisioterapia Adesso Ho interrotto I miei esercizi Del ginocchio Per rispondervi Cazzo Scusa Mi riuscirò una parolaccia Scusa Quindi se ne parla Praticamente L'anno prossimo L'anno prossimo Sì L'anno prossimo L'anno prossimo Con calma Almeno recupero bene Allora Ci hanno detto Che praticamente Conosci Per filo e per segno Tutta la viola Di questa stagione Ci dai un tuo giudizio? Ma io direi Che a parte Che l'arrivo di piazza Mi sembra Che abbia Un attimo Un attimo Ho svoltato La situazione Siamo molto amici E lui Gli ho detto Di correre A Reggio Calabria Perché si sta bene Quindi Lui è venuto giù È venuto E mi sembra Che vi ha cambiato parecchio Direi che stanno Facendo bene Tutti quanti Conosco bene Fontechi Conosco Quaglia Conosco Ruggolo Ovviamente Con cui ho giocato Tanti anni Però Direi che Sono in zona playoff Una bella stagione Cominciata male Ma Adesso sarà drizzata Allora Basket italiano In crisi Totale A tuo avviso C'è C'è realmente Il rischio Che il legale Si arrivi a 10 squadre Questa è la domanda Dell'ultima ora Sicuramente Sicuramente C'è il rischio Perché Con queste regole Qui Anche nelle categorie Minori Tra under Parametri Che ci sono Il basket Sta morendo Sky l'ha abbandonato Ormai Un paio di anni fa Non lo guarda più nessuno I palazzetti Sono vuoti I soldi non ci sono Direi che Hanno fatto delle regole Che forse Potrebbero Potrebbero Rovinare tutto E Forse erano adatte 10 anni fa Adesso sicuramente In relazione al momento economico Sarebbero da rivire Ne parlavamo con Carlo È bello che Petrucci arrivi E dica Adesso le regole Le faccio io Adesso non si scherza più Ma non è un po' tardi Probabilmente Per dire certe cose Quando Quando magari il treno È già scappato via Io direi meglio tardi che mai Petrucci ha sempre tenuto Al basket italiano Ha sempre fatto Non ha mai nascosto Di tenere al basket È un buonissimo avvento Quello suo A capo della federazione Però I danni sono stati tanti Fino adesso Allora Vediamo un pochino Vediamo un pochino Vediamo un pochino Come riesce A cambiare tutto Federico ci trasferiamo Al centro viola Innanzitutto Erano tanti e tanti anni fa Era un'opera di reclutamento Operata dal settore Giovanile di coach Che era Nogebbia E ti trasportarono Nel settore giovanile Della viola Il tuo coach era Pasquali Raga Se non sbaglio Dico bene Sì sì Era un gruppo Dove praticamente Sono usciti Larga parte Dei giocatori Del basket senior Delle minors Di qui E non solo Perché c'era Luca Bisconti Che gioca in DNA C'era Giovanni Rugolo C'era Daniele Sacca Ma che era Si respirava In quel centro viola Sicuramente Serenità Organizzazione Buon lavoro La struttura Era un gioiello Si respirava Basket Come ha sempre respirato La gioca labbra Nella storia E poi Era il sogno di tutti Diciamo Giocare nel settore Giovanile della viola E poi lasciavo Tanti tanti amici Che onestamente Vanno al di là Del basket Sono proprio Che stanno ascoltando Io sono tornato Quest'estate Apposta A casa Del mio grandissimo amico Marco Pensabene Che mi ha sempre Diciamo sostenuto Dal primo giorno In cui sono arrivato a Reggio Quindi siamo amicissimi Anche con la famiglia Poi vabbè Paolo Canale Grandissimo amico Di giornate e giornate Di quest'estate Vabbè Poi saccarugola L'hai detto tutti tu Diciamo che Ho lasciato veramente Tanta gente lì Anche stesso Bisconti Che comunque Non è più lì Però L'ho fatto anni insieme Stesso Zampogna Che ancora lì Sarà Al quindicesimo Sedicesimo figlio Mi hanno detto No ancora Non è in doppia cifra Sta facendo Una polisportiva Sta facendo Una polisportiva Sta facendo un tentativo Per fare il quintetto Gli ne manca una Grandissimo Zampo Grandissimo Io ogni tanto Vedo il fratello Bologna Che lui Il suo fratello è a Bologna Ogni tanto Ogni tanto ci vediamo Senti Fede Se io ti dovessi chiedere Di raccontarmi La canzone Relation Tu che cosa hai da dirmi Secondo me Secondo me dovete raccontare Dovete chiedere a Pasquale Favano Cosa sentiva Nella notte No guarda Dei boati che si Dei boati che si alzavano Dalle camere Eh ma questa qua quindi C'era una botta di 50 Dicevamo con Paro Canale Perché lo spero Il massimo volume Era a 50 Capito Ah va bene Quindi questa qua Eravamo in camera Quelle serie lì C'era Sacca C'era Canale C'era Pensabene C'era Slavio Ungaro Se vi ricordate Sì Come no Slavio Ungaro C'era Daniele Davi C'era anche Ma eravamo un bel gruppo Eravamo un bel gruppo Grandi ricordi E ancora Pasquale Vi sta cercando E ancora Ancora gira Per il centro sportivo Con un manico di scopa Ovviamente gli abbiamo fatto penare Gli abbiamo fatto penare L'inferno a Pasquale Gira ancora Con un manico di scopa Federico invece L'ultimo anno in Lega 2 Cosa mi dici? L'ultimo anno in Lega 2 Anche lì E' stato E' stato un anno Che poteva andare Molto meglio Perché comunque A 9-10 giornate Della fine E avevamo già salvi E potevamo fare i playoff Poi ci sono state Difficoltà societarie E Stato un anno buonissimo Per me Con Paolo Moretti Che mi piaceva giocare tanto Abbiamo fatto Diciamo un bel campionato Peccato che poi C'è stato l'ultimo anno Di Lega 2 Della Viola Allora L'ultimo giocatore Che è stato ospite A Touring Basket Due settimane dopo E' stato contattato Ed ingaggiato Dalla Viola E' anche questo Il tuo obiettivo E' anche questo il tuo obiettivo Fammi capire Era chiaramente Giovanni Rugolo Assolutamente Assolutamente no Perché comunque E' stato un bellissimo anno E' stato quello lì A parte purtroppo Il fallimento della squadra Però Abbiamo fatto una bella stagione Moretti comunque Ha fatto una bella Io l'anno dopo Sono andato alla Virtus Cioè comunque Lo ricordo Come il mio Praticamente Unico anno Di professionismo Vero l'ho giocato Perché ero in panchina Gli altri anni Ma non giocavo mai L'ultimo anno E' l'anno che ho giocato Veramente nella Viola Quindi Mi dispiace che sei coinciso Con l'ultimo anno Di professionismo Della Viola Va bene Adesso facciamo un gioco Io ti dico un nome E tu mi dici un aggettivo Va bene Tonino Zorzi Tonino Zorzi Non ci sta seguendo In streaming Per gli aggettivi Per gli aggettivi così Tonino Zorzi Geniale Alessandro Piazza Alessandro Piazza Alessandro Piazza Geniale L'ho già usato Alessandro Piazza Stacanovista Pensavo Pertonino Un po' sclerato Senti Gianmarco Pozzecco Gianmarco Pozzecco So che hai qualche aneddoto Da raccontare Io un istrionico Hai qualche aneddoto Da raccontare Solo che non te lo chiedo No guarda Non tenere il conto Di avvento di supporto No dobbiamo fare una Dopo mezzanotte Dopo mezzanotte Facciamo una trasmissione Preferisco portarvelo Una sera a cena Volentieri Che da capo d'Orlando Lo prendono e lo portiamo Ah perché no Magari quest'estate Magari con tanti partitelli A Santa Caterina Perché è molto amico Anche con Alessandro Piazza Hanno giocato insieme Alla fortitude Quindi non sarà difficile Allora Federico Appuntamento Quest'estate a Santa Caterina Lestini Pozzecco Piazza Contro Paolo Canale È chiaro È vero È vero Hai beccato gli unici giorni Ho ancora i video Io purtroppo Non potevo partecipare Perché avevo il ginocchio Non operato Quindi non potevo Non potevo partire Quest'estate partecipo E poi tutti A mangiare con Paolo Esatto Al cinghiale Io poi tra l'altro Tra forse una quindicina Una ventina di giorni Vengo Penso una settimana Quindi Abbiamo modo di vederci Credo E allora Ti aspettiamo Abbracciaverte E ti salutiamo E ti ringraziamo Un saluto Ma grazie di che Ti abbracciamo forte Ciao Federico Ciao Fede Grazie Ciao Federico Questo era Federico Lestini Grande giocatore Di pallacanesso L'abbiamo avuto anche qui Ma non so In Lega 2 Ma grande Grande amico Ci siamo divertiti E impazziti Quest'estate Sì Faticissimo Quest'estate In quei In quei dieci giorni Che poi tra l'altro Ho beccato pure Su dieci giorni Ho beccato otto giorni Di pioggia Poverino Guarda Ci sono stati quei racconti Che faceva su Gianmarco Pozzecco Tra l'altro Poi lui e Paolo Hanno dei modi di raccontare Le vicende di Tonino Zorzi Che ero veramente Ma non soltanto io Tutta la tavolata Eravamo in lacrime E è stata una delle Delle migliori serate Di quest'estate Dovremmo Dovremmo invitare Tonino Zorzi E fare magari un duetto Con Federico Sarebbe bello O magari chiamarlo al telefono Ma sicuramente Qualche volta Dobbiamo chiamare Qualc'altro ospite Però per farlo chiamare Eh assolutamente Questo sì Chiaramente Adesso torniamo Agli appuntamenti Del weekend In C regionale Aspettiamo il verdetto Del giudice sportivo Che si dovrebbe Riunire proprio stasera Sì proprio stasera Tra Olympic Club E Botteghele Basket Partire la sospesa Sul 36 a 22 Ad inizio terzo quarto Per il resto Derby Alla Nertos Cosenza Che si stacca Ancora di più in vetta Il Villa San Giovanni Vince Batte la GBL 31 punti Per Enzo Postorino Enzo Postorino Classe 1969 Sì Però portati Come direbbe lui 69 FC Solo in pochi Capiscono Va bene Vai Vai con lo spot Questa battuta Ora nel frattempo Alla riforma dei campionati L'ennesima riforma Dei campionati Chiaramente Si sta dibattendo Proprio in questi giorni Riguardo La Lega 2 Gold E la Lega 2 Silver Su come verranno strutturate Si parla di budget Si parla di tasse Di iscrizione Si parla di revisioni Da parte della Comtec Di promozioni E di retrocessioni Di utilizzo O mancato utilizzo Dei giocatori stranieri E ancora tutto Da costruire Alla faccia Della programmazione Insomma Eh Sì Nel senso che Ovviamente Stanno cercando Contomeno Di Il discorso Che comunque Dicevamo prima Stanno cercando Comunque Di rattoppare Delle falle Gigantesche Nel sistema Nel sistema Pallaganestro Quindi La Pallaganestro Soffre A qualsiasi Qualsiasi Fascia A qualsiasi Campionato Si parla Di Serie A A partire dalla Serie A Fino ai campionati Ovviamente Minori Ne abbiamo Un Fulgito esempio Ovviamente Per quanto riguarda La nostra situazione Territoriale Per quanto riguarda Il campionato regionale DC regionale Il più alto Campionato Di federazione Come A livello A livello regionale A dieci squadre Tirate per i capelli Che probabilmente Col passare Ian Andrà a sparire Sì c'è molta più Si sta Come Si sta Quanto meno Allargando Verso il basso Ovvero Tantissime squadre In promozione E man mano che si sa Ovviamente Anche in Serie D Ci sono sei squadre Ed è anche a livello regionale Tra l'altro Fanno trasferte A Crotone Castrovillari In Serie D Catanzaro In Serie D E poi per arrivare A una C2 A dieci squadre Ed è un campionato Uno dice Tutta la crema Adesso è raccolta In queste In queste dieci squadre Non è vero Perché comunque Il livello Al quale assistiamo È sempre Diciamo Quasi mediocre Non c'è più Quell'ammazza Campionato Al quale eravamo Abituati Nel corso di questi anni Vedi Soverato Vedi Pianopoli Pianopoli Il Crotone A suo tempo Ma anche le squadre di Reggio Erano ben attrezzate Con l'abba Di Santino Surace C'era la Vis Che poi Vinse ovviamente Il campionato La Sessaudax Ci sono Ci sono meno introiti Ci sono meno squadre E comunque Anche il livello Un attimino Langue Ne è anche la prova Comunque che Ancora Ricollegandoci Alla C2 Assistiamo Anche a partite Come Olimpico Botteghelle Partite che Mi auguro Per il proseguo Del mio entusiasmo Personale Parlo A livello egoistico Spero di non vedere più Numero uno Perché è uno spettacolo Davvero Inguardabile Non si può Assolutamente Ancora assistere Al 2012 Certo ci sono Anche in Serie A Quindi uno dice Sai sempre quella giustifica Anche nell'NBA Sì anche nell'NBA Uno mette sempre quella giustifica Anzi però Sai C'è anche nell'NBA Quindi Di che cosa ti lamenti Ma io Mi auguro Perché è uno spettacolo C'erano anche dei bambini Sugli spalti Dei ragazzini Chissà Che cosa avranno capito Da quella confusione Ma soprattutto Mi auguro di non vederla Mai E poi mai più Perché Ad invadere il campo Mi tengo soprattutto Su questo termine Non aggiungo altro Ad invadere il campo E a combinare Un pochettino Di confusione Sono state persone Sono state persone Che fino al giorno prima Uscivano insieme Hanno mangiato Nello stesso tavolo Amici di lunga data Fratelli Diciamo fratelli Fratelli E come se io e te Usciamo da qua Dalla radio E ci ammazziamo Dalle bastonate Cioè E' uno spettacolo Che non vorrei vedere Perché Proprio per il rapporto Che c'era tra le squadre E soprattutto Tra le componenti Delle squadre Spero che comunque Il giudice sportivo Stasera Prenda la decisione Più opportuna E ovviamente Quello che ne seguirà Lo vivremo Poi strada facendo Questo comunque Per ricollegarmi Al discorso Che il sistema Palla canestro Sta vivendo anche Un periodo Veramente di crisi Di crisi netta A partire dalla Serie A Fino alle Minors E crisi Anche in DNC Poche e poche squadre Il Cus Messina Super cavolista Vincente su tutti i campi Stava rischiando Per due quarti E' stata sottomessa Da una nuova Jolly Indemoniata Una prestazione super Da parte Dei ragazzi in regine Che poi cedono Alla distanza Contro la caratura Dei ragazzi di coach Sidoti Dopodiché Derby Super derby Tra Redelvis Reggio Calabria E Cestistica Gioiese Vince la Redelvis Nelle ultime giocate finali Un parziale di 8 a 0 Stefano Zampogna Doveva giocare 7-8 minuti Alla fine è stato L'autentico MVP Della sfida Accanto ad un Andrea Pellicano Sempre più positivo E trascinatore Della formazione regina Bomba decisiva Di Sebastiano Grasso Nella Gioiese Infatti Nella Gioiese Tante Tantissime note positive A partire dall'ex di turno Domenico De Marco Veramente voglioso Di far bene Di conquistare la vittoria E dà un lieto ritorno Riccardo Rizzieri L'ingaggio di Rizzieri Si va ad affiancare Ad altri colpi di mercato In tutto il panorama Cestistico calabrese Avvenuti proprio in settimana Dicevi del giovane Dicevi del giovane Santucci Dicevo del giovane Santucci Che in compagnia di Antonio Musolino E del giovane Aloi Va a rafforzare la compagine Dell'Azzaro In promozione Allenata da Antonio Couto Cugliandro Esattamente Che salutiamo Presto saremo lì Ma perché non gioca Presto Presto saremo lì All'Azzaro Per vedere un attimino Come è fatto Il basket in carrozzina Perché sono gli unici In Calabria Che ci stanno provando E non è una cosa da poco Ma no Li abbiamo incontrati Quest'estate Poi Tra l'altro L'entusiasmo di Antonio Cugliandro Che si è fatto anche Promotore Assieme a questo gruppo Di amici Di Di questa Di quest'ottima iniziativa Tra l'altro Mi sono un pochettino Io mi sono arrabbiato con lui Perché ce l'ho chiesto Io mi sono arrabbiato con lui Perché ho detto Questa è una cosa Assolutamente da non chiedere Antonio È una cosa che Cioè Massimo spazio Ti daremo Per te Per questa iniziativa Che ovviamente L'odevolissima E ti seguiremo E ti daremo Ovviamente tutto lo spazio Che necessitano Perché Sport Sport a parte Le persone Che ancora Inseguono Un sogno Una passione Così Per me Non Non mi mordo la lingua Quando dico Che queste persone Sono davvero Dei eroi Stesso dicasi Quando mi vado a vedere Non vorrei dire qualcosa Di sgradevole Quando mi vedo Le parolimpiadi Quelle persone Che praticano ancora sport Nonostante Abbiano subito Degli incidenti Che ne abbiano debilitato L'attività agonistica O quantomeno L'attività A certi livelli Mi fa molto piacere La loro risposta Alla vita Ovvero Non ha L'incidente Però non ha Non ha tagliato Quanto meno La loro voglia La loro voglia Di vivere Di continuare Io li vorrei vedere Pure al Palabotteghella Sostenere la viola Tutte queste persone Può essere Può essere un'iniziativa Spero che ci siano Le strutture adatte Per farle entrare Al Palacalafiore C'erano Sicuramente Ma perché il palazzetto Del Botteghella È fermo comunque Il 1980 Quindi non so Se sia stato adeguato Come dire Secondo norma vigente Non lo so Francamente Non lo so Vorrei scoprirlo Con elicottero Lo sapremo presto Insomma Tornando Al basket mercato Il rosarno Di coach Ciccio Barilla Si rafforza Sotto canestro Incaggiando Un veterano D'eccellenza Per quelle zone Ovvero Gianluca Galluccio Un altro giovane Fortunato Barilla Invece Usufruisce Di un doppio Desseramento Con la scuola Di basket viola In C regionale Tante Tante poetine In movimento Da qui Fino al termine Del mercato Quindi Orecchie Apertissime Occhi altrettanto Per il resto In C regionale Dicevamo Vince La Nertos Nonostante L'assenza Di Emanuele Gallo Il tiratore Numero uno Della formazione Silana Ottima prova Di Marco Pate Autentico Trascinatore Del quintetto Di coach Arigliano E vittore Nel derby Contro una lanciatissima Bimboom basket Che arrivava Da sei successi In sequenza Per il resto Dicevamo Si aspetta Questo verdetto Il giudice sportivo Che potrebbe cambiare Tante cose In chiave Playoff Guarda Ho sentito Alcune voci E danno La partita Da rigiocare C'è una Totalmente A proposito Di bookmakers Non si può riprendere Come Sarebbe bello Come in Inghilterra Si riprende Dal 36 a 22 Ora ci sto immaginando Stesso campo Stessi protagonisti 36 a 22 Palla al centro Dichiera la palla Ma che poi Scusate Poco prima Di tutto quello Che è successo Dei vari Danilović C'è Rigatò Contro Myers Ok Poco prima Uno dei protagonisti Addirittura Ha passato la palla In gesto di fair play Dopo l'infortuna A Mario Franco Di che stiamo parlando Ragazzi Dai Questi sono un attimino Vabbè Non si può Sapere cosa sia scattato In testa A tutti quanti Ai protagonisti Quelli là Che erano Quelli che erano In campo L'unico mio rammarico Davvero Lo dico con la morte Nel cuore È vedere La migliore partita Di Nino Crucitti Da settembre Ad oggi Si è operato Nel frattempo Rovinata Mamma mia Stava segnando Tutte le parti Poverino Sconsolato Si è avvicinato Lì E la transenna Vicino Davvero seduto Tocca aspita L'unica partita Che stavo giocando bene Si è vero Si è semplicemente ridendo Io Lascierei da parte Di Nino Crucitti Per analizzare Una tua intervista Carlo Addirittura Un'intervista riguardante Il progetto Azzurrina Non voglio fare Nessun collegamento strano Il progetto Il progetto Che cosa è successo Al progetto Azzurrina Allora Ho avuto il piacere Comunque di intervistare Larissa Smorto Che è l'allenatrice Della selezione Azzurrina femminile Vincente In un primo spareggio Contro la Basilicata Anche di un buon punteggio Se non sbaglio 25-28 punti Di scarto Questo vuol dire Che Enzo Porchi Il marpione Del parquet Calabrese Aveva visto lungo Dando la squadra La Larissa Una ragazza Che è dal PQN Di Monteporena Dove ha fatto Quello stage Comunque È una ragazza Che ha ampi margini Di miglioramento Gli piace la pallacanestro Da morire Segue qualsiasi tipo Di manifestazione Si imbarca Su quella 600 rossa Che penso che abbia 258 mila chilometri Ha fatto il giro Dei chilometri Per questo E a zero L'altra volta Però Va a seguire E si aggiorna Continuamente Ha questo successo Comunque Riprova Di un lavoro Che sta facendo Lei con le ragazze E con tutto Con tutto il suo staff Quindi probabilmente Ce n'è di gente giovane Che c'è ancora voglia Ma sì L'importante È andare a vedere E come dicevo prima Dargli qualche possibilità Di Un attimino Di esprimersi Assieme a Larissa Ovviamente Ce ne sono altri ragazzi Che stanno cercando Quanto meno Di ritagliarsi uno spazio All'interno della pallacanestro Abbiamo lo stesso Davide Rillotta Che poi tra l'altro È il suo allenatore Poi mi piace Larissa Che ad esempio Quando parla Da allenatrice No L'allenatore Si deve ascoltare E come Come sgrida I ragazzi Che allena Quando sbagliano Un fondamentale O quando li sostituisce Non vuole che Fiati una mosca Che Davide una volta L'ha sostituita Durante una partitella Inamichevole Una partitella Una partitella Tendo a sottolineare Partitella Larissa Se l'è mangiato Dalla testa Fino alle unghie Le unghie dei piedi Povero Davide Che già è rossiccio Di carnagione È diventato fucsia No però poi Larissa Da brava Istruttrice Ha capito il momento E ha fatto 688 Flessioni Per punizione Eppure giusto Comunque oltre a loro due Ci sono altri ragazzi Che stanno cercando Quanto meno Di ritagliarsi uno spazio Non ultimo Iliano Che hai intervistato tu Sulla banchina Della Vis Sulla banchina Del Rosarno Abbiamo Ciccio Barilla Ogni volta Dico Ciccio Non mi vorrei prendere Di confidenza Il fatto che L'ho visto in fasce Quindi forse Mi permetto questa licenza Francesco Francesco Barilla Poi Ad esempio Abbiamo Basilio Longo Che sta seguendo Ad esempio La Pantera Rosa Il soccorso Anche Sì sì Appunto il soccorso C'è Vincenzo Tripodi Sempre Sempre al soccorso Comunque c'è una nuova Una nuova leva Io spero che comunque Quando questi siano pronti E maturi La Pallacanesso Ci sia ancora Ma speriamo Questo è il nostro auspicio Passiamo agli appuntamenti Della C regionale C'è una vincente Villa San Giovanni Botteghelle Con tanti punti interrogativi Riguardanti Le relative squalifiche In casa Bianco-Blu Qualora ci saranno Nertus Cosenza Basket Rosarno Sabato alle ore 19 Sempre al sabato Alle ore 18 e 30 Virtus Calanzaro Contro Olympic Club Virtus Calanzaro In crescita Impresa addirittura Al palafamurro Di Rosarno Sempre al sabato In diretta streaming Con Franco Cufari Alle 17 e 30 Scuola di Basket Viola Contro Bimboon Basket Rende Domenica Unico posticipo La JBL Affronta Il Lamezia Dopodiché Chiaramente Passiamo Per un attimo Anche alla Serie D In Serie D Vince La Target Sul campo E la Grasca Un momento Sicuramente Fantastico Per il quintetto Di Coacenzo Votortini Marco Costantino È stato veramente Il tassello Mancante Di un team Che adesso Sta veramente Volando Verso la vetta Della classifica Ci voleva Giustamente Dobbiamo dire Che la vetta È tutta Per il Pollino Di Castrovillari Che ha Una partita In meno E non deve Ancora Effettuare Il turno Di riposo La Target Invece È a pari punti Con Castrovillari Non deve Recuperare Nessuna partita E soprattutto Non ha Turni di riposo Le due squadre Si sfideranno Tra due settimane Ad Archie Attenzione Questo è veramente Un big match Il big match Del prossimo weekend Invece Sarà Pollino Contro Crotone Campionato Molto molto Equilibrato Il Quid È come In C regionale Non sappiamo Chi ha la facoltà Sia economica Sia la volontà Di partecipare Alla C regionale Nella prossima stagione Probabilmente Chi Preme i tasti Nella scatola Di bottoni Dovrebbe iniziare Ad inventarsi Magari Un maxi Campionato A costi ridotti Prima che Realmente I campionati federali Spariscano A favore Dei campionati Wisp Csi Eccetera Eccetera Nella riprova Che l'uomo mercato Giovanni Santucci Usufrirà Di un doppio Desseramento Wisp E Csi Giocherà Nella formazione Preseduta Da un famoso Fotografo Con gli occhiali A proposito Infatti È stato l'ultimo Ingaggio Di Fortunato Serrano In arte In arte fofo Nella sua squadra Che non ricordo Il nome Si chiama Evviva la Madonna Ma non è una bestemmia Non è una bestemmia Non lo volevo dire Fino all'ultimo No Mi fa Mi fa piacere Vuol dire che comunque A 46 anni Giovanni ancora trova La forza E soprattutto L'entusiasmo Di mettere Ma più che mettersi in gioco Trova ancora Quegli stimoli Quelli che accennava lui A settembre Che non sono Le pugne californiane Ma cercava Un altro tipo Di stimoli Quanto meno Per tornare A calzare Magliette E pantaloncino Quindi andarsene in giro Per la Calabria A dispensare perle di gioco Con quella sua mano mancina Non spezza mai il polso Comunque A 46 anni E' ancora un uomo mercato E' una garanzia Una garanzia All'impitturato E adesso Parliamo invece Dell'Olimpia Reggio Calabria Abbiamo già parlato Dove giocherà l'Olimpia Carlo? Allora l'Olimpia giocherà Nuovamente in trasferta A Napoli Nuovamente in Campania Per la terza volta questa Per la terza volta Speriamo che questa volta Portino Qualche tipo Quella era a battipaglia Doveva portare Le mozzarella Loretana Costantino Doveva portare le mozzarella Comunque Non ha Sì Gli avevo chiesto Qualche sfogliatella Pure però No Giocherano nuovamente A battipaglia Sono Partecipato agli allenamenti Con le ragazze La vittoria ovviamente Di Viterbo Ha Dato nuova Nuova linfa Le sconfitte ovviamente Non aiutano Allora dovrebbero essere Da stimolo Le sconfitte Per fare meglio Però un attimino Il clima stava Un po' degenerando Nel senso C'era un po' troppo sconforto Nelle Nelle ragazze Perché ovviamente Arrivavano sempre Delle sconfitte In ultimo quarto Però questa Questa vittoria Di Viterbo Fatta punto a punto Fino al terzo quarto Al quarto quarto Va pure in svantaggio Di 4 a 7 minuti Ha una prova d'orgoglio Uno scatto d'orgoglio La miglior realizzatrice Poi dell'incontro Quella che è stata Giulia Che tra l'altro Non doveva neanche giocare Giulia Melissari Non doveva neanche giocare Ha segnato 17 punti Ed è stata una Che quantomeno Ha preso la squadra E l'ha trascinata Poi nella vittoria finale Ma assieme a lei Comunque c'è stata Anche L'ottima prova Di Sarantonelli L'ultima arrivata 1,90m di ragazza Proveniente dal San Raffaele Selma Delibasic Sì È stata in doppia cifra Però ha giocato Un attimino In attacco In maniera un po' opaca Però in difesa È stata davvero Molto Molto intelligente Sui aiuti È stata tutta Una prova Del collettivo Ad avere la meglio Sul Viterbo E questo risultato Comunque poi Si è ripercosso Durante gli allenamenti Ovvero Le ragazze Hanno trovato Un'altra Chiamiamola linfa Un'altra Un'altra entusiasmo Per continuare il proseguio E a Napoli Non è detto Che ci possa scappare Lo scherzetto È il momento Di dati statistici Top 5 Della settimana Troviamo chiaramente Il capitano dell'Olimpia Giulia Melissari Dopodiché Antonio Barbuto Coach della Nuova Gioli Sorprendente Per due quarti Contro il Cus Messina Carlo se smetti Di leggere il telefono Che è? Che è successo? Mi è arrivato un messaggio Da parte di Candidature No da parte di Paolo Canna Che non posso ovviamente leggere Ho capito E poi tra l'altro Comunque ti sei dimenticato Di menzionare Nella C2 regionale Che la scuola di basket viola È stata corsare In quel di Lamezia Ah Un'impresa non da poco Con un Domenico Latella super Domenico Latella super Anche perché poi Si vociferano Le probabili dimissioni Del coach Nando Fusto Che ha un attimino Questa sconfitta L'ennesima in casa Che non ci si aspetta Poi da Lamezia Che Lamezia Storicamente ha fatto Del proprio campo di gioco Sempre un fortino È difficilissimo Notoriamente Vincere Lamezia Però un Nando Fusto Davvero arrivato Forse al limite Stesso discorso Che è successo Con le dovute proporzioni Con Enzo Porch E l'Olimpia Forse ha paventato Le divisioni Quanto meno Per cercare di dare Una scossa Una scossa positiva Però ovviamente Merito va anche Alla Viola Che ha vinto in trasferta Con quel gruppo di Con quel gruppo di Under Grande prestazione Mi dicono Del playmaker Francesco Russo Direttamente da Gioia Tauro È ottima la mossa Comunque di Peppe Cotroneo Terzo allenatore Che ha suggerito a Pasquale Come battere Lamezia Ha suggerito a Umberto Che ha suggerito a Pasquale Che ha suggerito a Pasquale Vedi tu Che giro che ha fatto Comunque il merito Secondo il mio punto di vista E lo sarà anche per te Il merito va anche A Peppe Cotroneo Un applauso A Peppe Cotroneo Un grande Ricordavamo la top 5 Marco Padre Della Nertos Cosenza Ah sì Stefano Zampogna Uomo della svolta In casa Re del Vis Reggio Calabria Ha fatto quei due RS Tiro Io aggiungerei Un altro Un altro giocatore Gioca Gioca in promozione Gioca in promozione Carlo sì Gioca in promozione Francesco Molimeni No aspetta Aspetta Spopola su Facebook Twitter Youtube E qualcos'altro E chi è? Ne parlano tutti Tutti i post Sono dedicati a lui Ha segnato la bellezza Di 31 punti Contro Contro i miei amici Di Pellaro Della Fortitudo Che saluto E chiedo scusa Chiaramente A Guglielmo Armando E tutti quanti Gioacchino Granata Ragazzi Il nostro co-conduttore Ha fatto 31 punti Che non sbagliava mai 15 in un quarto Ha fatto anche Innervosire Il quintetto avversario E dice E afferma Virgolettato E se non gioco In Serie A È un complotto Internazionale Ha segnato Dalla spiaggia Pure Gioacchino Granata Perché il campo Ovviamente Di Pellaro È quello là È la piscina Che c'è vicino Il lungomare Il trucco È che si allena Con la vis Ma è questo qua Guarda L'ho visto Allora Tra l'altro Gioacchino segna 31 punti Allenandosi con la vis E poi Se tu noti L'arco temporale La vis Ha questa crescita Prova a indovinare Da quando Da quando Gioacchino Si allena con la vis Quindi è una specie Di scambio Una proporzione Sì sì Una mano lava l'altra Quindi grande Gioacchino Che aiuta Sia la sua squadra Sia la vis È tutto un concatenarsi Di vicende Di cose Non so che cosa sto dicendo Giovanni Se non mi interrogo Salutiamo il nostro amico Gioacchino Che sta spopolando Su Twitter Ciao Gio Buon rientro a casa Lo avremo qui mercoledì prossimo Per il nuovo appuntamento Con Tour in Basket Concorderemo all'ospite insieme Si parla di nomi grossi Abbastanza grossi Ma grossi come nome? Non lo so Vediamo 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 un attimino Che cosa si può fare Dobbiamo cambiare le sedie Se no Ricordiamo La Viola Ore 18 Contro Chieti Coach Ponticello Mette in guardia Formazione molto molto tosta Chieti E formazione sorgnona Quando meno te l'aspetti Esplode Una formazione competitiva Probabilmente il miglior centro Della categoria Rossi Ha una vecchia conoscenza La Viola in chiave Veramente preistorica Ovvero Stefano Raiola Raschi È un giocatore Che giocava da playmaker In Serie A1 Adesso è diventata Un'ala piccola Un giocatore totale Molto molto forte Il mio giocatore preferito In questa squadra L'ho vista più volte Su Sport Italia È Gatti Giocatore che Coach Ponticello Conosce molto bene Perché l'ho allenato Per due anni a Sant'Antimo È praticamente Un lungo Che sa come far male Anche da tre punti E soprattutto da tre punti Dunque occhi aperti Per questa Viola Che deve un attimino Ritrovare Nell'immediato Dopo una settimana Di pausa Il ritmo partita Ha effettuato Settimana scorsa Un test amichevole Contro i giovanotti Della Nova Jolly Adesso Con tanto entusiasmo Frutto di vittorie Come se piovesse Si ritorna in scena Hai visto l'allenamento Carlo? Sì L'ho visto L'ho visto Prima di venire Qua in In trasmissione Guarda Mi sono sembrati Molto motivati Qualsiasi appunto Mosso da Ponticello Durante le fasi di gioco Era quello di stare Sempre attenti Comunque A questo A questo Chieti Che ovviamente Può giocare Può giocare Lo scherzetto Proprio per le ragioni Che è appena elencato È un buon È un buon collettivo Non Nessuno Come dire Vista la posizione nostra In classifica Non possiamo permetterci Il lusso di sottovalutare Qualsiasi avversario Non lo faremo Penso contro Chieti Anzi No penso Ne sono sicuro Non sottovaleremo Chieti Ovviamente Andremo anche a Torino Contro la capoclassifica Con lo spirito di vincere Non Ormai non si guarda È iniziata la fase di ritorno Ogni partita È da interpretarsi Come una finale Di Coppa dei Campioni Senza Non c'è Né andata né ritorno Proprio una Una partita secca Il Il playoff È lì ad un passo Ovviamente Se non avessimo avuto Quell'inizio Un attimino Deficitario A quest'ora Non staremo a fare Questo tipo di discorsi Però il campionato È bello anche per questo La gente Si è riavvicinata Alla viola Anche per questo spirito Rinnovato Che ha visto Quindi Ma La gente È bella Di катà La gente È bella E Aduno Grazie a tutti